A Bari sono venuti a presentare, metto quando voglio Masterclass, Edordo Leo e Valerio Prea e vi ho fatto la stessa domanda, come avete reagito quando Sidney Sibiria vi ha detto che non ne voleva fare uno di film, ma altri due contemporaneamente? Tu sei completamente pazzo, tu sei completamente pazzo e addirittura non ti nascondo che abbiamo espresso perplessità perché sai, quando fai un lavoro che è una piccola opera d'arte che ha avuto un riconoscimento grande c'è sempre il rischio che il tuo lavoro appaia di continuarlo appaia una scelta più commerciale che altro e quindi tutti abbiamo detto, ma conviene farlo è meglio lavorare su un soggetto originale con lo stesso gruppo poi abbiamo letto il film quando ci ha fatto leggere le sceneggiature sono corollati tutti i dubbi ci siamo divertiti come pazzi e abbiamo detto, ma facciamolo di corsa, via quindi ha vinto Sidney